Mmm, è così buono, gustoso, naturale, mia moglie ne va pazza. Mmm, lo compra tutti i giorni, ai miei figli piace fresco, con quel sapore genuino di latte fresco, ma quello stagionato! Mmm, così appetitoso, saporito! Eh, eh, eh! Asiago! Come te non c'è nessuno! Formaggio Asiago, fresco e stagionato. Due sapori, un solo nome. Asiago.